Sono rimasti bloccati con l'auto in panne da una fitta e improvvisa nevicata che ha così stoppato la loro salita verso il Prato Magno, una brutta disavventura di capodanno per una giovane coppia casentinese che adesso gli costerà anche una sanzione per la violazione del divieto di spostamenti. Erano infatti circa le 17.30 del primo giorno del nuovo anno quando alla centrale operativa dei carabinieri di Bibiena è arrivata una chiamata, una richiesta d'aiuto da parte dei due giovani rimasti in panne con l'auto nei pressi di un ristorante in località Le Ceraie nel comune di Castel San Nicolò. I carabinieri della stazione di Poppi e i vigili del fuoco da Arezzo e Prato Vecchio hanno raggiunto i due con non poche difficoltà grazie ad una turbina della protezione civile attivata dal comune di Poppi. I due ragazzi, spaventati ed infreddoliti, l'auto infatti non era provvista di riscaldamento, sono stati portati alla stazione dei carabinieri di Poppi dove sono stati rifocillati. Nei loro confronti scatterà comunque la sanzione per non aver rispettato il divieto di spostamenti previsto dalle normative anti-Covid, considerando che in zona rossa sono vietati se non giustificati. Rimassa invece sul luogo fuori uso l'auto che verrà recuperata non appena possibile.